Ehi, guarda, si è aperta un'altra breccia. Pensavo di averle chiuse tutte. Dove siamo? Cosa sono queste gallerie? Siamo nelle miniere dei Nani. È qui che lavoro. Fai il minatore adesso? Non è che avessi una formazione specifica al di là di... Uccidi gli orchetti, lancia gli incantesimi. Inoltre la gente non è stata molto contenta quando ho tagliato l'afflusso di energia magica. Andiamo! Da questa parte, signor Orchetto. Ehi, guarda! Servizio in camera! Oh, sì! Vittoria! È l'ora della merenda! Ciao, ciao! Sì! Questo farà male! La caccia è aperta! Ehi, elementari! Mi hanno detto che quando muoiono basta farne degli altri. Mi hanno detto che quando per state enhospetto non sono scopi alle! Siamo alle e scopi alle! Sano delle scopi alle! Sano alle! Tutti le scopi alle! Prendi a perdere le scopi alle le scopi alle! E' ora di fare una pausa Non mi pare giusto Quando voi ragazzi siete pronti Wow, questo deve essere un bello Che roba assurda Un sacco di orchetti morti Un sacco di orchide Un sacco di orchide Grazie a tutti. Grazie a tutti.